Anche questa settimana volevo continuarvi a parlare di lavoro, visto che la politica italiana è attenta in questo momento al tema. La maggioranza vuole a tutti i costi, con un colpo solo, modificare tutta la legislazione riferita ai lavoratori, questo con il famoso Jobax. Ma il problema è un altro. Non possiamo oggi fare le riforme che i tedeschi hanno fatto più di dieci anni fa. Dobbiamo innovare, dobbiamo trovare un nuovo stile di vita e di assetto della società. Solo così potremo rimetterci in pista e correre verso il futuro, invece di rimanere impantanati nelle nostre stesse regole. Se la politica istituzionale non riesce ad ascoltare il popolo, questo si deve organizzare in maniera alternativa. Per ultimo, volevo citare le parole di Alcide De Gasperi, che ha traghettato l'Italia monartica a quella repubblicana, e cioè quella di non vivere solo per noi stessi. Oggi c'è bisogno che ognuno di noi entri in qualche maniera a far politica e a pensare alla società. Per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo editoriale.